I segreti delle imprese di successo perché di fatto il successo è una ricetta. Se noi abbiamo un'azienda dove è orfana dell'imprenditore, perché l'imprenditore in qualche modo è preso da altro e perché è insostituibile in quelle altre cose che invece dovrebbe essere facilmente sostituibile, perché di fatto tecnici e manager bravi se ne trovano in giro. I soldi, per farli ci vuole ritmo e il ritmo viene scandito dalle riunioni. C'è un mare immenso che ci aspetta di mercato, di business, di idee. E se io continuo a fare solo quello che io so già fare, per quanto possiamo essere stati bravi, andiamo un po' in ripetizione. Allora benvenga iniziare subito a imparare quello che altri hanno già fatto, cioè quello come fa, se voi vi potete distinguere avete il mare davanti, se continuate a fare quello che avete sempre fatto è un po' più difficile. Il futuro della tua azienda dipende solo da te, sei tu la causa. Davanti a un problema o mi reputo causa di quel problema o mi reputo effetto di quel problema. Qual è stata la mia scelta coraggiosa? La mia scelta coraggiosa è stata questa, cioè passare da 25 persone a 40. Quando iniziava la crisi, prendere, assumere, rimettersi in gioco non è stato proprio facile per me. Non solo andare a prendere la valigia e spostarsi, andare all'estero, quando ancora non era automatizzata la mia azienda. Per cui c'è un periodo, sappiatelo tutti, che come quando si costruisce la terza corsia in autostrada, per un periodo devi andare su una. Se funziona per qualcun altro deve funzionare anche per me. Questa è un'idea vincente. Perché io avevo il McDonald avanti e lui chiudeva col cinese arrivato da un mese. O apprendi dai tuoi errori o apprendi dagli errori degli altri. E il problema più grosso degli imprenditori è il personale, la gestione del personale. Vi risulta? Cioè, capite che questa è un'anomalia tutta italiana, eh? Se noi non risolviamo questo problema in azienda, siamo finiti. Di fatto, dobbiamo pensare che l'azienda non è più la nostra. Due terzi della crescita della tua impresa dipendono dalla crescita delle persone. Quando metti una persona di grande qualità, automaticamente dentro l'azienda si espande come un liquido benefico e intorno si crea energia, si crea positività, si crea gente che lavora. Prima individuo la mia inefficienza, e la interrompo, più risparmierò in costo della non qualità. Cioè, leader, se non c'è un gruppo, non sei un leader. Sei un leader se sei al capo di un gruppo. Non sei nato leader. Non è che poi prendo lui un leader e poi mi sa fare la... Se non hai un gruppo, non sei leader. Sei leader se hai un gruppo e cresci insieme al tuo gruppo. Abbiamo detto quanto è importante un gruppo di lavoro, no? Però, come se fosse un organismo, lo devo proteggere dai mali. E devo riuscire a riconoscere quelle che sono le figure che all'interno della mia azienda sono negative. Il ritorno sull'investimento della formazione è il 3.000% di ritorno. Qualsiasi problema avete, c'è qualcuno in grado di risolverlo. O che comunque può vendervi una soluzione. Chi capisce il valore della formazione la caccia, la segue, ed è proprio il motivo perché sta andando bene. Leader are readers. Se voi leggete un libro alla settimana, per un anno avete alla fine dell'anno letto 53 libri. E se voi leggete 53 libri di un argomento specifico che vi riguarda, voi siete tra il 5% a livello nazionale di quel settore che ne sa di più. Se non provi eccitazione, adrenalina o paura, significa che sei nella zona di comfort. Perché un cliente dovrebbe scegliere te? E questa è la domanda che, se non sapete risponderci voi, nella sfida del più per meno, dove siamo oggi, dove c'è un concorrente che è disposto a dare la stessa tua cosa a meno, più per meno, cioè vuol dire che c'è qualcuno che in qualche modo sta dando di più. Io come mi distingo? Devo per forza fare in modo di essere unico. È stata una piacevole conferma. Io conosco Giuliano da tempo, molti concetti li conoscevo, ma è sempre entusiasmante vederseli ripetere con nuova energia e nuovo entusiasmo. Non è una cosa solamente per locali o pubblici esercizi, ma è per tutti quelli che hanno comunque un'azienda che vogliono migliorare e far crescere. Ciao a tutti, siamo qui con Massimiliano Quanton, direttamente dall'Osteria di Casacchianti, proveniente da Firenze. ha fatto tanti chilometri per assistere a strategie per imprese di successo a cura di Giuliano Lanzetti. Cosa ti ha spinto a farti tre ore e mezzo di macchina per assistere a questo evento? Allora, prima di tutto con Giuliano abbiamo fatto un corso insieme nel 2014. Ho frequentato il corso, quindi riduce dell'esperienza, secondo i principi che ho imparato tempo fa nel corso, devo dire che personalmente hanno portato grosso successo all'interno dell'azienda, considerando anche i vari aspetti, dal marketing a tutte le aree che sono trattate nel corso. Quindi, prima di tutto, sono stati i successi che ho realizzato. Poi, oggi ho fatto tre ore di macchina perché ho voluto condividere e far vedere ai collaboratori un aspetto del lavoro che loro non conoscevano. quindi ho colto l'occasione di venire a Rimini investendo tre ore di macchina più altre quattro ore qua con l'obiettivo proprio principale che è quello di far condividere ai miei collaboratori questi principi che al giorno d'oggi sono fondamentali per chi cerca di progettare, iniziare un'azienda di successo. Mi ha colpito tantissimo il marketing perché dai concetti che magari per tanti possono essere difficili e invece sono subito palpabili e da mettere subito in pratica. Eccezionale, veramente. Quale concetto ti porti a casa oggi, Luca? Il concetto, in principio, è quello di portare a casa l'idea che oltre a me sono riuscito a portare anche diversi collaboratori e anche loro sono rimasti molto entusiasti da questo corso perché può dare sia a me che a loro degli importanti spunti.